Il caro Energia rischio 30.000 posti di lavoro, contro l'appello delle categorie economiche al futuro governo. Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto che destina 10 milioni al distretto Tessile. Al via il catechismo in parrocchia, sabato 1 ottobre, il vescovo conferisce il mandato ai catechisti. Torna la kermes dolce stil bono, i pasticceri sfidano la crisi puntando sulla formazione dei giovani. Buonasera e bentrovati a questa edizione del nostro Tg. Il caro Energia mette a rischio il 40% delle imprese pratesi e circa 30.000 lavoratori. A lanciare l'allarme è un'indagine di CNA. Anche da Confartigianato e Confindustria parte un appello rivolto al futuro governo. Gli incrementi dei costi di luce e gas stanno mettendo a dura prova cittadini e imprese. In attesa della formazione del nuovo governo, le associazioni di categoria lanciano un accorato appello al futuro esecutivo, chiedendo provvedimenti immediati e urgenti. Se da un lato i dati dell'export relativi al primo semestre del 2022 sono incoraggianti con un più 34%, dall'altro infatti l'aumento dei costi energetici rischia di vanificare tutto. Non solo, parlano chiaro anche i dati di una recente indagine effettuata da CNA Toscana Centro, secondo la quale il caro Energia mette a rischio il 40% delle imprese pratesi e circa 30.000 lavoratori. Se non si stabilizza attraverso un tetto, il rischio è che effettivamente in alcuni settori si riduono torni di lavoro, se si riduono torni di lavoro vuol dire che qualcuno va a casa. Questo è uno degli aspetti più preoccupanti, ma anche nel lungo termine siamo preoccupati perché non vediamo in che maniera la questione si possa risolvere. Poi c'è una serie di proposte tra l'altro che riguardano in che maniera si riesce nel tempo a dipendere meno dal mercato. Tutto il tema delle rinnovabili, una questione così particolare che si gioca ovviamente in Europa, quello che noi pensiamo è che serva un recovery fund per il carattere energia, altrimenti non se ne esce. Grande preoccupazione è stata espressa dal confartigianato che nell'immediato chiede al nuovo governo chiarezza sul futuro e di congelare le bollette. Chiediamo di poter bloccare, congelare quelle che sono le bollette che oggi stanno arrivando alle aziende e che di fatto le stanno mettendo in crisi. Congelarle in attesa di capire effettivamente se possono esserci dei ristori legati proprio a questo tipo di situazione o dei provvedimenti che ne alleggeriscono l'impatto nel bilancio aziendale. Noi chiediamo chiarezza e possibilmente capire bene in quale contesto ci troveremo a operare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Perché se non sappiamo che cosa ci aspetta, difficilmente potremo prendere dei provvedimenti all'interno delle nostre aziende per poter affrontare la situazione senza essere costretti a chiudere, senza essere costretti a licenziare, senza essere costretti a mettere le persone in cassa integrazione. Sulla stessa lunghezza d'onda Confindustria Toscana Nord, che ribadisce anche la necessità di continuare a lavorare sui temi della transizione energetica, della sostenibilità e dell'economia circolare e della valorizzazione energetica degli scarti non più recuperabili. Abbiamo bisogno di interventi velocissimi per cercare di far abbassare il costo e cercare anche di stabilizzare il costo del gas e dell'energia. Chiediamo anche un intervento dal punto di vista finanziario, perché le aziende, oltre all'emergenza dovuta al costo dell'energia e del gas, si trovano in enormi problemi finanziari, oltre per pagare le bollette, ma anche perché sono ricominciate le restituzioni dei mutui. Fortemente collegata a questi temi c'è il tema della formazione, che ora in questo momento sta passando un po' in secondo piano, dietro all'emergenza, ma che per noi è un tema cruciale e fondamentale. Intanto c'è chi ha deciso di rivedere gli orari d'apertura della propria attività e di contenere i consumi energetici. Vediamo. Ridurre l'orario di lavoro per contenere i costi delle bollette è la scelta fatta da una conciatrice pratese, Barbara Catani, del team Daria, azienda storicamente associata a Confartigianato e Imprese Prato. La crisi non sta risparmiando nessun settore, le bollette sono quasi triplicate, e così Catani, ma come lei e anche altri colleghi, ha deciso di variare gli orari di apertura della sua attività in modo tale da provare a contenere i consumi senza intaccare sulla qualità dei servizi e dei prodotti offerti ai clienti. Noi abbiamo modificato l'orario, certo non è una novità per tanti nostri colleghi, però io parlo per la mia attività. Io avevo un orario un po' elastico, quindi sempre nei limiti ovviamente del consentito, e quindi ho cercato di rimodulare l'orario dando sempre un servizio di qualità ai clienti, ma riducendo le ore lavorative. Quindi saranno 8-9 ore, ovviamente 8-9 ore giornaliere senza toccare l'orario delle collaboratrici, mantenendo tutto com'è, però cercando anche un giorno alla settimana di contentare i clienti che magari hanno la necessità, che lavorano di avere un appuntamento in tarda serata, di fare un giorno con la pausa pranzo, ma con l'orario più lungo. È un'idea per cercare di consumare meno energia, che magari in una giornata lunga ci potrebbe essere anche un po' di dispersione, qualche pausa, qualche tempo morto, diciamo così, e ora non è più il caso. Questo serve anche ovviamente per mantenere la qualità dei servizi e dei prodotti che usiamo per i nostri clienti, dove lì non possiamo risparmiare e non possiamo risparmiare ovviamente neanche nel dargli una luce accesa o neanche il calore d'inverno e l'aria condizionata d'estate. Intanto è di oggi la notizia della pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto che dispone l'erogazione di 10 milioni a fondo perduto a sostegno del settore tessile per il 2022. Sono ammissibili i progetti ad alto contenuto di innovazioni, di sostenibilità per migliorare la competitività. I 10 milioni sono frutto del lavoro di tutti i parlamentari e sono una dimostrazione che quando facciamo squadra i risultati arrivano sempre, afferma la deputata di Forza Italia Erika Mazzetti. Un intervento che tiene conto della specificità del distretto al quale dobbiamo dare continuità anche sul piano normativo. I 10 milioni di finanziamento per il distretto tessile sono stati stanziati dal governo Draghi ad agosto. Basta ora con i toni da campagna elettorale. Questo invece è il tono dell'intervento dell'assessore al bilancio e attività produttive Benedetta Squittieri. Mi sembra interessante vedere come l'onorevole Mazzetti si sia accorta adesso dell'ufficialità del finanziamento di 10 milioni previsto in legge di bilancio. Il decreto è stato firmato da ben due ministri il 5 agosto, aggiunge Squittieri, ricordando che nel frattempo il Comune ha già firmato il 16 settembre un protocollo d'intesa con le parti economiche e sociali per la gestione di queste risorse. Mazzetti Stamani è stata ospite della rassegna stampa prima di tutto nel corso della trasmissione ha affrontato il tema dell'emergenza energetica. Il rigassificatore di Piombino si farà, ha detto la deputata di Forza Italia, che non ha risparmiato critiche al presidente della regione toscana, Eugenio Giani, per come è stata gestita la vicenda. Ma sentiamo. Lei non ha dubbi che il rigassificatore si farà? Sì, sicuramente si farà, perché la procedura è iniziata, Snam ha già fatto buona parte dei lavori, non è opportuna la votazione di impatto ambientale, ma io dico una cosa in più, si farà, deve essere fatto, siamo convinti che sia necessario, e se Snam ha deciso di farlo lì, perché avrà fatto delle considerazioni tecniche lì, e Ravenna erano le condizioni migliori, però secondo me è stata gestita male dai vertici, soprattutto regionale, perché quando si fa un'infrastruttura di impatto del genere, importante, che sono scelta, non dia nessun tipo di rischio, dobbiamo coinvolgere, prima di andare sui giornali a dare l'annuncio di questa cosa, dobbiamo coinvolgere i cittadini, gli imprenditori e chi è nel luogo. Lei dice che il presidente Giani doveva fare meglio, lo ricordiamo, è anche commissario della struttura del governo, è stato commissario, doveva confrontarsi e spiegare bene ai cittadini, agli imprenditori che sono sul territorio, come funzionava, ma soprattutto dire subito le compensazioni che dava. Le ultime elezioni hanno detto che il consenso della Lega è in netto calo rispetto a quattro anni fa e anche alle ultime regionali. Da partito trainante della coalizione di centrodestra, Alcarroccio si è visto superare a velocità quadrupla da Fratelli d'Italia, numeri che spingono ad una riflessione e a fare chiarezza. Dopo le amministrative del 2019, il partito ha perso per strada tutti i sei consiglieri eletti e anche a livello di segreteria ha subito vari avvicendamenti. Il consigliere leghista Daniele Spada analizza la situazione e prova a spiegare come dovrà muoversi la Lega in vista delle amministrative del 2024. Sentiamo. Che cosa vi deve dire questo voto? Cosa dice alla Lega di Praso? Ci deve dire che si deve tornare a fare la Lega, si deve pensare meno a governi istituzionali, si deve pensare meno a Bruxelles, si deve pensare di più agli italiani. Il nostro slogan è da sempre prima l'Italia, prima gli italiani, ecco dobbiamo rimpadronirci di questo. A livello locale dobbiamo collaborare con le altre forze politiche del centro-destra per puntare al 2024 a vincere. La situazione a Prato è abbastanza caotica, nel senso che con le elezioni del 2019 c'erano sei consiglieri, tutti quegli eletti fondamentalmente hanno lasciato, poi il partito, lei è entrato successivamente, anche con i segretari lo sappiamo che ci sono state delle vicende alterne, pensa che sia arrivato il momento davvero di fare innanzitutto chiarezza all'interno del vostro partito? La Lega è stata un partito che è cresciuto in modo incredibile nell'arco di poco tempo, ora si è stato infatti un po' contratta, e quindi questo ha portato a grossi sconvolgimenti, non a quella maturazione, a quella crescita che avrebbe potuto portare a una selezione delle candidature e della classe dirigente doverosa. Io credo che adesso comincino a essere maturi i tempi anche per creare qualche cosa di più strutturato in città, in provincia. Manca poco più di un anno e mezzo alle amministrative, come si muoverà la Lega di Prato in vista del prossimo voto? Continuando a fare quello che ha fatto fino ad oggi, facendolo meglio, lavorando sul territorio, contattando i cittadini, facendo venire fuori tutti i problemi dell'amministrazione e collaborando con le altre forze politiche. Insomma, lo dicevo prima, le divisioni ci sono costate molto, anche tre anni fa, sono errori, stati errori gravi, sono errori da non ripetere, dobbiamo farne tesoro sapendo che in città potenzialmente possiamo essere maggioranza. L'anno di catechismo sta per iniziare in tutte le parrocchie di Prato e come da tradizione sarà inaugurato a livello diocesano con il mandato del Vescovo Giovanni Nerbini a tutti i catechisti della diocesi. L'anno scorso l'incontro si tenne in San Domenico, quest'anno invece l'appuntamento è in programma sabato 1 ottobre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale dei Santi Martiri al Cilianuzzo. Sarà una mattinata di preghiera e riflessione alla quale parteciperà come ospite il priore della comunità di Bose, fratel Sabino Chialà, invitato per parlare di annunciare la gioia dell'amore. Dopo questo momento i catechisti manifesteranno la volontà di impegnarsi per l'accompagnamento dei ragazzi e dei bambini ai sacramenti ed il Vescovo Giovanni conferirà loro il mandato. Anche a Prato la Polizia di Stato ha festeggiato oggi la ricorrenza del patrono San Michele Arcangelo. Stamani in Duomo il Vescovo Giovanni Nerbini ha celebrato la Santa Messa alla presenza del questore Giuseppe Cannizzaro e delle altre autorità cittadine. A seguire il prefetto Adriana Cogode ha voluto consegnare al questore Cannizzaro l'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana concessa dal Presidente della Repubblica. La cerimonia si è tenuta in prefettura. E proseguono i controlli della Polizia all'interno delle strutture abbandonate dove trovano ricovero sbandati e persone dedicate all'attività illecite. Ieri gli uomini della questura hanno effettuato un sopralluogo all'interno di un edificio in disuso in via Arcangelo. Nello stabile i poliziotti hanno trovato cinque stranieri tutti con precedenti denunciati per invasione di edifici. L'8 ed il 9 ottobre alla Villa del Mulinaccio torna Dolce Stil Bono la manifestazione che racconta la sapienza artigianale dei pasticceri pratesi. Sarà anche un'occasione di formazione per gli allievi all'indirizzo alberghiero del Datini. Vediamo. I maestri pasticceri di Prato non si lasciano intimidire dalla crisi e rilanciano il loro impegno per la formazione dei giovani. È il messaggio positivo che arriva dalla seconda edizione di Dolce Stil Buono la manifestazione promossa dal comune di Vaiano in collaborazione con Confartigianato e Imprese Prato per raccontare la genialità e la sapienza artigianale dei pasticceri pratesi e toscani. La Kermesse che quest'anno sarà dedicata a dolci e benessere si svolgerà sabato 8 ottobre dalle 15 alle 19 e 30 e domenica 9 ottobre dalle 10 alle 18 e 30 nelle sale della splendida villa del Mulinaccio a Vaiano. 14 i pasticceri che presenteranno i loro dolci delle meraviglie. Molti di loro si racconteranno nel corso di speciali show cooking. Nel cartellone di iniziative ci sono anche degustazioni, laboratori per bambini, una mostra a mercato ed una cena di gala ispirata a salute e sapori locali in programma sabato 8 ottobre su prenotazione al sito www.visitvalbisenzio.it Dolce e Stil Buono questa manifestazione è legata alla grande maestria dei pasticceri però quest'anno oltretutto vede coinvolti ancora di più i ragazzi, i ragazzi con il loro futuro, con il loro lavoro, con tutti i pasticceri. e quindi per noi questo è un messaggio davvero importante. Siamo partecipi di più attività in questa bellissima manifestazione organizzata dal comune di Vaiano sia come la partecipazione negli show cooking ci sarà anche un aspetto sul benessere quindi il dolce che fa bene e poi l'organizzazione della cena di gala del sabato. A Prato quello della pasticceria è un vero e proprio distretto caratterizzato da altissima qualità e da competenze diffuse che i maestri condividono anche con i giovani. Sono decine ogni anno i ragazzi che vengono accolti in stage formativi per molti di loro è un modo per costruire anche opportunità di lavoro. Io devo ammettere che quando lavoro con i ragazzi con i giovani gli s'apre il cuore ma proprio è la vera giusta parola perché vedere i ragazzi hanno voglia di fare il nostro lavoro ci diventa d'orgoglio perché qualcosa vuol dire che nella nostra zona noi pasticceri perché siamo tanti aver portato questo segnale a vedere i ragazzi che ci vogliano seguire è una cosa per me importantissima e che ci dà valore ancora di più. In attesa di vedere dopo 20 anni il riallestimento del celebre spettacolo Italia-Brasile 3 a 2 il ritorno di Davide Enia che andrà in scena al teatro Metastasio dal 18 al 23 ottobre prossimi domani sera alle 21 il Met organizza un incontro dal titolo Chiacchiere in libertà l'iniziativa è realizzata in collaborazione con il circolo ricreativo Paolo Rossi di Santa Lucia che ospita la serata a dialogo Rossano Rossi fratello maggiore di Pablito ed il direttore del Metastasio Massimiliano Civica che ripercorreranno la storia del grande Pablito l'ingresso è libero e adesso parliamo di salute a Prato dottori e personal trainer insieme per prevenire i rischi delle diete fai da te scopriamone di più è nato a Prato il primo centro medico multidisciplinare del dimagrimento della Toscana si chiama Re Evolution Body e ha rilanciato un fondo sfitto da anni in via del Romito riqualificandolo con ambulatori e con adiacente sala per l'attività motoria in uno spazio di oltre 200 metri quadri il centro medico ha ottenuto l'accreditamento in regione toscana e l'autorizzazione all'attività da parte del comune di Prato ad aprire il centro multidisciplinare sono stati gli imprenditori pretesi Massimo Russo e Laura Luconi e quello pistoiese Diego Palandri la caratteristica unica in Toscana del centro medico è appunto quella di avere al proprio interno ogni tipo di professionalità medica di peso e quindi nutrizionista ortopedico fisioterapista endocrinologo psicologo e ancora chirurgo estetico medico sportivo diabetologa medico di base dermatologo e a breve arriverà anche l'accreditamento in regione toscana per un bariatra un cardiologo un ginecologo e uno psichiatra dopo la prima visita medica da parte dell'endocrinologo il paziente verrà indirizzato verso lo specialista di riferimento e di pari passo nella struttura adiacente per iniziare l'attività motoria con un personal trainer rischi di un fare da te sono innumerevoli nel senso anzitutto la cosa che capita più frequentemente è che il paziente potrebbe affidarsi a persone che non sono professionisti dell'ambito e che quindi non solo non risolvono il problema ma ne creano l'obiettivo del centro medico non è solo la perdita di peso ma anche l'acquisizione di uno stile di vita che permetta nel tempo di mantenere una forma fisica adeguata il demagrimento è un processo molto complesso poiché quando si parla di demagrimento si deve optare al calo della massa grassa e alla conservazione della massa muscolare inoltre è opportuno che alcuni aspetti fondamentali come ad esempio alcune patologie vengano prese in considerazione quando si lavora una dieta poiché non tutte le diete possono essere fatte da tutti i pazienti il centro medico si occupa anche dell'aspetto della salute del paziente ma anche del benessere fisico e visivo l'obiettivo finale è il ripristino fisiologico naturale della conformazione corporea che questi pazienti hanno perso in seguito all'aumento di peso o gravidanza eccetera e adesso è il momento di scoprire insieme gli appuntamenti previsti per domani a Prato e dintorni con la nostra agenda prende il via domattina al Museo del Tessuto la terza edizione del Festival Seta dialoghi sulla Cina Contemporanea in programma fino a domenica 2 ottobre dalle 15 alle 19 al Pol Universitario Città di Prato in occasione del trentesimo anniversario della istituzione la notte dei ricercatori con workshop visite guidate della sede della Galleria del Vento ed esperienze di realtà virtuale alle 17.30 nel Salone Apollo della Pubblica Assistenza all'Avvenire presentazione del libro La Mafia spiegata a mia figlia di Edoardo Marzocchi e da domani a domenica 2 ottobre in piazza del Mercato Nuovo Prato aiuta Prato il motor show per tutti tre giorni di musica mercatini street food spettacoli e attrazioni motoristiche per grandi e piccini si inizia domani sera alle 21 con il concerto di Dottor Jack e con l'agenda termina per questa sera il nostro Tg vi lasciamo al meteo a cura del Consorzio Lamma a seguire intorno alle 9 condotto questa sera da Giacomo Cocchi alle 21 e 20 invece la telecronaca della partita di calcio Sant'Angelo Prato a tutti voi una buona serata da Maddalena Ciambellotti e da tutto lo staff di TV Prato arrivederci stop stop purtroppo questo non succede solo nei film ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è affidati a veri professionisti Prato all'armi una sicurezza da Oscar era un colpo perfetto avevo curato ogni dettaglio eppure sono qui mi definivano abile scaltro infallibile e anche se non ce l'ho fatta ci riproverò potete stare tranquilli voi Comprato poi non è un caso che siano professionisti della sicurezza per comprare vendere affittare casa rivolgiti a Tecnocasa la più grande rete d'Italia nell'intermediazione immobiliare residenziale e per l'impresa ci trovi vicino a te nelle nostre 9 agenzie affiliate a Prato e Provincia e sul nostro sito tecnocasa.it uno dei più cliccati da chi cerca casa esperienza e competenza per trovare velocemente l'immobile che fa per te vuoi lavorare con noi? inviaci il tuo curriculum scrivi a toscana chiocciolatecnocasa.com Tecnocasa la più grande rete fisica e virtuale in Europa una buona serata e ben trovati ancora variabilità per la giornata di domani per il transito di un'ennesima perturbazione che ci interesserà a partire dalla tarda mattinata per il weekend sembra ristabilirsi un po' di alta pressione che manterrà il tempo un po' più stabile con qualche locale addensamento vediamolo meglio nel dettaglio con la grafica per la giornata di domani mattinata cielo nuvoloso possibilità di qualche locale precipitazione tendenzialmente di debole intensità e soprattutto a ridosso dei rilievi nel pomeriggio precipitazioni un po' più consistenti soprattutto lungo la fascia costiera centrale con la possibilità anche di rovesci o di qualche locale temporale i venti per domani meridionali le temperature senza grossa variazione con le mine in leggero rialzo attorno ai 14-15 gradi le massime invece attorno ai 18-20 gradi la giornata di sabato poi vedrà un miglioramento anche se in mattinata avremo ancora qualche addensamento sulle zone interne e prepareranno poi le schiarite nel pomeriggio con le temperature in deciso aumento fino a 24-25 gradi con questo è tutto vi ringrazio per l'ascolto augurandovi una buona serata grazie grazie grazie